o le eccoci qua ciao i grottini e ciao i grottini spero mi vediate abbastanza bene io non sono sicura infatti faccio una prova adesso veloce veloce vediamo un po' se mi vedete bene si mi vedete molto bene niente allora in questo video avevo voglia sinceramente di salutarvi quindi ho salvato qualche vostro numero e niente è un caldio improvvisato perché ve l'ho detto proprio all'ultimo e iniziamo da destia chiamiamola ecco purtroppo siamo partiti con quella che non parte purtroppo questa chiamata non parte andiamo da Anna mannaggia raga sta andando male abbiamo appena iniziato e già sta andando male Aurora pronto? pronto? ciao ciao sei chi sono? sì Elena ciao come stai? tutto bene tu? ciao Aurora tutto bene? che stavi facendo? ti ho disturbato? no no figurati saluta a tutti? sei emozionata sei emozionata? vabbè dai è normale saluta a tutti? è un po' di tempo amore da quanto? eh da quando avevi mille iscritti mille iscritti? sì ma da quando ero brutta brutta allora? ma no mi sono sempre bella grazie sei una patata saluta a tutti quanti che sto facendo il video ciao a tutti te l'aspettavi il video? sì di la verità eh in realtà credevo che volessi solo sentire però eh sì era una sorpresa ma pensavo che comunque qualcuno ce l'ha pensato insomma sì ho immaginato hai visto? dai sei contenta? sì moltissimo vuoi dire qualcosa alle scritte come te? che mi voglio bene e continuate a seguire ti è empatata grazie mille tesoro un bacio ciao bellissima ciao ciao mamma mia io sono sempre emozionatissima quando mi chiamo poi andiamo da Meriem intanto saluto questa ragazza è stata un amore andiamo da Meriem speriamo che lei risponda è quello che lei è comporto è inesistente oddio com'è inesistente mannaggino mannaggino Michela poi quell'altro magari tesoro se l'ho messa inesistente per sbaglio perché ho sbagliato ti richiamerò in un prossimo vediamo Michela Michela squilla rispondi Michela niente Michela non risponde raga mi va sempre male mi colla proviamo con mi colla poi le altre gli rifaccio uno squilletto insomma quanto sta già non rispondo non rispondo pronto pronto chi è? è Indovina 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 Elena si oddio esatto saluta sto facendo il video come stai tesoro? tutto bene sei contenta? molto ti aspettavi la chiamata? no non te l'aspettavi bene dai una cosa così all'improvviso sei felice che mi vuoi dire? chi c'è con te? non lo so non eri non eri pronta diciamo esatto che stavi facendo? eh niente stavo guardando la tele stavi guardando la televisione che ti stavi guardando è bello? eh boh boh ma c'è qualcuno con te? si chi è? mi segue anche questo qualcuno? mia sorella e mio fratello mi seguono? mi seguono? oh ringrazia lo mandagli un bacio va bene va bene? dai sei contenta che ti ho chiamato? si da dove vieni? lo vado eh immaginavo immaginavo dai allora ti mando un grossissimo bacio grazie ciao tesoro ciao un bacio ciao 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 ma come siete patate è sempre una gioia almeno tre le voglio chiamare eh Michele Michela Mariam Aurora Anna chiamiamo Anna vediamo chi prego squilla Anna squilla pronto? indovina chi sono? chi sono? chi sono? no ragazzi sono rimasta male così non ho capito la reazione mi ha attaccato pronto? sono Elena ciao Elena che vuoi? ciao tutto bene? mi ha dato lei il numero perché mi ha detto che vuoi ragazzi è rimasta veramente male boh vabbè proviamo con Michela mi dà il numero poi mi dice che vuoi tesoro ti stai guardando questo video? spiegami no Michela ha deciso di non risponderci quest'oggi ma anche questo domani vabbè nessun problema e Michela Aurora Mary Anna Alessia perché ne ho potute salvare insomma non tantissime oddio Aurora mi pare che quella sta sentendo male proviamo Alessia no Alessia non me la fa chiamare non so come fare allora chiamiamo Edisa c'è qualcosa che non va con i telefoni a quanto pare ma perché avete i telefoni che non vanno ci sto rimanendo male mi giuro da morire ok questa si chiama Alice e questo è un numero che mi ha dato un sacco di tempo fa poi vediamo dove va pronto ciao Alice ah ciao sai chi sono? eh no sono Elena chi? Elena ah ciao dimmi Furlan oddio ma 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 eh sì eh sì perché me l'hai dato tu un po' un po' di tempo fa sì perché ho deciso di rifare un call you e ho preso anche i numeri vecchi eh ciao come stai? bene bene dai e tu? eh sto molto bene perché ho dovuto prendere anche i numeri vecchi sì ti vedo felice l'anni comodo di sera sono contenta quanti anni hai? 15 15? eh infatti sento che la voce è da grande no 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 non mi ho richiesto che tu sei del 2000 giusto? sì sì sono del 2000 e siamo quasi coetanei hai visto? quanto sei carina di dove sei? del Piemonte del Piemonte bello il Piemonte mi piace ci piace ci piace vabbè dai è rilassante almeno e vuoi dire qualcosa alle iscritte che ti stanno ascoltando in questo momento perché sto facendo il video è tutto è tutta una sorpresa hai visto? è tutta una sorpresa oddio sei contenta? mi segui ancora non è che non mi segui più dopo tutto sto tempo va bene vuoi dire qualcosa? ciao a tutte ciao a tutte e Renate ti voglio bene? amore che patata che sei grazie anche tu che stavi facendo? ti ho disturbato? oh no sicuro sì che stavi facendo? stavo leggendo la cazzo non qua oh che cosa? stavo leggendo